E adesso... Questa è la storia di un fratello e una sorella che perdono la mamma e il papà e vivono una fantastica avventura. C'era una volta una bambina che crebbe durante la Grande Depressione, la cui madre beveva fino a perdere i sensi. Un giorno la mamma si svegliò e disse... Non voglio più essere una mamma. E così la bambina venne data in affido dove la mamma e il papà di qualcun altro si sarebbero presi cura di lei. Come ti chiami? Mildred. Mildred... Non voglio mai più sentirti aprire bocca, ragazzino. Questi genitori erano molto cattivi. Qualunque cosa Mildred facesse, la picchiavano e la sgridavano, come facevano anche con l'altro orfano allora affidati. Come ti chiami? Edmund. Ciao, Edmund. Ciao, Mildred. Ciao, Mildred. Non si parla. Tranquilla. No, no, no! Il bambino e la bambina erano molto tristi, finché un giorno non conobbero la loro fata madrina. Un assistente sociale gentile che, impietosita da quei due bambini, falsificò i loro documenti, scrivendo che erano fratelli biologici. Così che nessuno li avrebbe mai separati e l'uno avrebbe sempre avuto l'altra. disse Siate bravi bambini, prendetevi cura l'uno dell'altra. Ma ogni famiglia da cui furono mandati era peggiore della precedente. Tu sei mio fratello. E tu sei mia sorella ora. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Ma... Non importava quanto bene si comportassero i loro affidatari, li odiavano. Li ha fatto male. Li picchiavano ogni volta che potevano. Cosa? Smettila! Sembrava quasi che li accogliessero solo per ricevere il sussidio governativo. Cosa? No! Basta! Un giorno il bambino fu picchiato così tanto che la sorella pensò che potesse morire. Smettila! No! Basta! Così scapparono via. Tornarono dall'assistente sociale. La supplicarono di trovare due genitori che li amassero e che si prendessero cura di loro. Beh, la gentile assistente sociale provò di nuovo pena per loro e gli diede ottime notizie. Avrebbe trovato per loro una famiglia definitiva. Una mamma e un papà ricchi che vivevano in una casa grande come un castello. Mildred ed Edmund erano al settimo cielo. Non vedevano l'ora di conoscere la nuova mamma e il nuovo papà. Diedero loro regali e caramelle e tutto il gelato che volevano. più tardi mostrarono ai due bambini la cosa più bella di tutte. Giù nel seminterrato c'era un teatro dei burattini dove il bambino e la bambina potevano giocare finché volevano. dopo un po' si resero conto che il teatro non era per i burattini. Erano loro che dovevano esibirsi. la loro mamma e il loro papà definitivi mettevano annunci riservati sui giornali usando un codice speciale. salve vorrei pubblicare un annuncio bimbi belli ogni mercoledì alle 8 di sera 565 di Westfield i pervertiti di ogni dove pagavano molti soldi per guardarli compiere atti contro natura uno sull'altra. la loro famiglia. Il bambino e la bambina decisero di scappare Ma il bambino non voleva soltanto scappare Devono pagare per quello che hanno fatto La sorella lo supplicò di non farlo Disse che dovevano scappare finché potevano No, vieni con me Ma il bambino disse No E così? Mentre la coppia dormiva Lui prese un paio di forbici affilate come un rasoio E cavò a entrambi gli occhi Edmund, dobbiamo andare via da qui Edmund, ti prego, dobbiamo andarcene via subito Non voglio lasciarti Vattene via Mi dispiace, mi dispiace Mi dispiace La bambina corse, corse finché non riuscì a correre più Mi dispiace, Edmund Mi dispiace Alla fine si sedette sotto un albero E pianse Ti ho detto che non ti avrei mai lasciato Ma l'ho fatto Ti ho lasciato Ti prego, perdonami, Edmund Prometto che un giorno ti troverò Te lo prometto Come osa Come osa Come osa costringere questi bambini a guardare questo spettacolo Che razza di posto è questo? Come osa Come osa Mildred Che significa? Mi chiedo scusa Mi dispiace tantissimo Mi dispiace tantissimo